E' una corsa a quattro, quella per la vittoria del campionato d'eccellenza. Non si tratta di un verdetto definitivo, ma di una netta sensazione emersa all'indomani della quarta giornata del girone di ritorno. C'è ancora molta strada da percorrere, sino al termine della stagione regolare, poi ci si tufferà nei play-off regionali e nazionali per agguantare la promozione in Serie D, ma il solco sembra tracciato. Gallipoli, Mola, Fidelisandri e Casarano, in astretto ordine di classifica, si giocheranno il primo posto, ma bisognerà tenere conto di alcune variabili. Una di queste riguarda ad esempio il Gallipoli, punito dal giudice sportivo con la squalifica del campo per tre giornate. Si giocherà a porte chiuse e lontano dalla città salentina, dopo il finale burrascoso ed appendice di Sassaiola nei confronti del Pullman degli Azzurri nella gara di domenica contro la Fidelisandria. Non saranno probabilmente gli scontri diretti ad incidere sulla vittoria finale, ma quella che potrebbe essere definita etappe intermedie, alle quali sono chiamate le quattro squadre di vertice. Domenica prossima toccherà a Casarano, in trasferta contro la Virtus Francavilla, che punta ad un piazzamento play-off, e al Mola, in casa contro l'Ascoli Satriano, tra le squadre più in forma del momento, evitare le trappole di questo campionato, mentre non dovrebbero avere problemi la Fidelisandria, in casa con il quartiere Uniti Bari e il già citato Gallipoli a Castellaneta. Se quattro sono le formazioni in lizza per il primo posto, tre sono quelle in corsa per l'ultimo piazzamento play-off. Alla Virtus Francavilla vanno aggiunte la Libertas Molfetta, dove fa clamore l'esonero Lampo di Catalano e l'affidamento della panchina a Dinichilo in attesa di un nuovo tecnico, ed il Vieste. Nella parte bassa della classifica solo il Manduria sembra spacciato, mentre anche il quartiere Uniti Bari potrebbe ancora agguantare il terzo-ultimo posto. I play-out al momento li disputerebbe il Trani, che domenica, con l'esordio di Pino Giusto in panchina, potrebbe ritrovare la vittoria con il Francavilla. Si tratta di uno spaleggio salvezza, anche se a Trani in pochi l'avrebbero immaginato si no dobbiamo si fa.